Sì, ma è un'altra voce femminile, un'altra bellissima voce femminile, certamente, viene sempre da Napoli, è la grande Anna Sachs Ah, grande Anna Sachs, eccola qua, bellissima, buonasera a tutti, buonasera, eccola qua, ciao gara Allora, è vero, è vero, allora facciamo un applauso, vedi che bello, guarda come cresce, vedi, vedi, vedi Eh, si vuol dire che è un premio veramente alle persone bisognose che noi porteremo alle case che hanno bisogno Naturalmente, ringraziamo veramente a tutti Ecco, allora facciamo un ultimo applauso, grazie, eccola qua, va bene, grazie, va bene Eccola qua, allora Anna Buonasera, è piacere incontrarvi in questa circostanza, che sono cose belle Grazie Veramente bellissime Ci fa piacere Allora, cosa ci propone di bello stasera, con la tua voce caliente Allora, stasera, proprio in occasione di questa manifestazione, io canto la vita in Upass Bella Che parla proprio dell'avvenire dei figli, sperando che ci sia un mondo migliore per questi ragazzi Sì, sì, giusto, giusto Speriamo veramente Allora, noi l'ascoltiamo, va bene Va bene E il pubblico ti farà l'applauso Ok, va bene Anna Sachs Grazie 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 Anna Sachs Grazie Grazie Saluto a tutti i telespettatori Un saluto a Tore Partenopeo Ciao Ciao Grazie Lo faccio anche da Partenopeo Ciao 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 Ciao